Comune e Regione puntano a lavorare insieme come hanno già fatto su San Siro. È il nuovo impegno che Palazzo Marino e il Pirellone hanno sottoscritto sulla questione Campi Roma abusivi e comunicato questa mattina durante una colazione con i cittadini del municipio 7 che si sono lamentati della presenza di insediamenti abusivi nel quartiere. All'incontro con i cittadini di Via Gola, zona della città nota per problemi di abusivismo e spaccio, hanno partecipato il sindaco Giuseppe Sala e l'assessore alle politiche abitative di Regione Lombardia Stefano Bolognini che hanno fatto il punto della situazione, raccolto i commenti e le osservazioni dei residenti. Stiamo cercando di capire se si può lavorare bene con un daspo urbano, ha precisato Sala e ne stiamo discutendo anche con il prefetto Renato Saccone. Il daspo urbano sarebbe relativo ad alcuni spazi perché alla fine ritornano sempre nello stesso punto e bisogna trovare delle formule affinché non ritornino, ha detto ancora il primo cittadino. Effettivamente vediamo che là dove ci sono i cittadini giustamente si lamentano bisogna trovare delle formule diverse. A Milano ci sono 3.000 nomadi, io non è che sono contrario alla chiusura dei campi, ha concluso, ma chiuderli vuol dire che saranno ancora più in giro. In una sorta di assemblea organizzata nella via delle associazioni che lavorano per migliorare il quartiere, dove sono presenti case di edilizia popolare gestite da Aler, i due esponenti sono stati anche contestati da un gruppo di due e tre giovani che sono contro gli sgomberi e da alcuni cittadini che si sono lamentati del degrado delle case. Il mio impegno è rispondere alle richieste dei cittadini, ha detto Sala, io tornerò qui con il presidente della regione Attilio Fontana non più tardi di settembre per firmare un impegno su Via Gola. Tra le proposte che potrebbero essere sul tavolo anche quella di una zona speciale per Via Gola con facilitazioni per chi vuole insediare negozi, cultura e attività giovanili. Bisogna vedere se di fronte a casi di artigianato e cultura possiamo ragionare su prezzi calmierati, ha detto Sala. Il tema qui non può essere solo di ripristino delle abitazioni ma bisogna trovare una formula per rendere più viva la via. L'assessore Bolognini ha sottolineato come in Via Gola ci sono 112 appartamenti occupati abusivamente. Da due settimane sono arrivati 48 milioni di euro di fondi per la rigenerazione urbana e Via Gola e tra le aree che sono prese in considerazione.